Buongiorno da LentiCar. Allora, la cosa più complicata del nostro lavoro non è vendere, no. L'attività più impegnativa è la ricerca di veicoli straordinari, vale a dire ben tenuti con un solo proprietario dal chilometraggio verificabile, mai incidentati e dalle particolarità uniche. Il video che state vedendo è l'esempio rappresentativo di quanto esposto poco fa. Trovare veicoli belli come questo Ducato è davvero difficile. Passo medio, tetto alto, immatricolato nel 2014, ultra accessoriato e con un vano di carico stupendo. Dalle pareti completamente rivestite in alluminio, hai passavuota in mandorlato ed il fondo in materiale antiscivolo, anti-usura. Allora, non perdere tempo. Se sei alla ricerca del furgone giusto, prendi il telefono, chiamaci subito o mandaci un whatsapp. O ancora meglio, vieni in sede a Castelletto di Branduzzo in provincia di Parvia. Grazie per l'attenzione, ciao!